Guardalo, qua t'ho beccato eh, è rivevuto sul canale per cercare il video del Fantagat, no, quello esce domani Solo se questo video si fa 1500 like entro la mezza notte, affare fatto, te lo giuro domani lo trovi pronto Ma non mi sento in grado di caricarlo oggi, voglio farlo aspettare un pochino Innanzitutto mi lasci un like perché ci tengo a questo video, FIFA è un pochino morto sul canale e questo è un video importante Se sei capitato per sbaglio su questo canale e vedi parlare di FIFA questo è il video che fa per te T'ho proposto una cosa interessante in l'eintro, ascoltala e poi dimmi se non è un video della Madonna Siiii Ci siamo, ci siamo, ci siamo, è il momento, è il momento di cominciare a dare una svolta a questo canale Perché ormai è questo, è questo quello che volete indurci a fare noi youtuber A darci i vostri account per sculare E quindi mi sono messo a fare della Juventus, per un semplice motivo Squadra della Syd somehow Con il numero 3 Giorgio Chiellini 90, l'overò il più alto della squadra Non è il migliore perché abbiamo anche Obame Young Abbiamo anche Tim Werner Signore c'è anche Piqué con una Shakira in omaggio Quindi ragazzi se vorreste anche voi Nei prossimi video e le prossime settimane Lasciarmi il vostro account Basta che seguiate questi step Con l'hashtag non più partecipo Come vedete qua in sovraimpressione Ma l'hashtag Che insomma quando ti parte Il Foot Champions Adesso però dobbiamo fare un passo indietro Alla scorsa settimana Quando Airway per la prima volta Disputa la sua Foot Champions E apre qualche account Prima di iniziare il video L'app di OneFootball nel primo commento Scaricatela perché è la migliore app del calcio E quindi fatelo adesso Questa settimana E dico io l'unica Dove mi sono permesso un weekend Per fare la Weekend League Questa è la squadra della settimana Douglas Costa è il mio unico obiettivo Io scelgo di fare la Weekend League Di rovinarmi un weekend E mi danno questo schifo Io guardo OneFootball L'app che sponsorizzo Guardo le migliori partite Vedo che mi fa Tripletta Luquebacchio Ho osato fare la Weekend League Con belotti a tetti Ma come si fa? Come si fa? Non lo vedi? FIFA Questo buco che ti lascio È il giocatore che avrei intenzione di trovare Bene sì Con questa squadra La prima mia Football Champions Di vivo 19 Sono riuscito A classificarmi Oro 2 Con 19 E dico 19 vittorie Allora Player pick Numero 2 Perché il secondo Il baldechiao Il problema È lui Non potrà mai essere Da class costa Perché la doppietta della serie Non è possibile Però Eggs Lo sanno Sterling Sì Sì Dai col player pick Dai col player Dai 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 col player pick Lo so FIFA Tu mi vuoi spingere A fare la Premier E questa è la risposta Sterling Non sento Non sento Non Come? Allora in questi pacchetti Io chiedo Un Workout Uno Vabbè Maggiorno Premium Maxi Sono così Sono pacchetti Che ti danno Nel pre Ho capito che è non scambiabile Ma se tu mi dai Ramos In un pacchetto da 15k Mi ricoverano Belgio Allora 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 Io FIFA Mi comincio a incazzare Vuoi che io faccia la Premier? No Questo 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 giocatore Lo scatto Secondo club Questo ragazzo ha qualità Ha qualità nelle vene Sarà prontamente informato Con tanto di chat Pronta a Esplodere La squadra è questa E Beh Io onestamente Vorrei rubargli Vedo dalla panchina Un certo Douglas Costa Capito? Douglas Costa Stavolta Vado col gomito Così Prima Santimina Non ci siamo Adesso Tensione Tensione Io mi metto le cuffie Perché voglio ripararmi Non voglio avere i contatti Con l'esterno Lo sano Lo sano Hermin Lo sano Ammetto che in chat ha goduto parecchio E voleva Lo sano L'uomo a roccia Stones Argentina Addivine Certo 5 pacchetti rimasti Pacchetto Giocatori rari 50k Scambiabile Dai 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 Di Spagna De Aessi Marco Marco Asenzio Io non so se tu sei Juventino Napoletano O di quale altra squadra Però abbiamo trovato Marco Asenzio Che si fa? Si scarta? Questo è il prezzo più basso 1 1 4 Nuova account Nuova storia Abbiamo un altro R3 Signori miei Questa serie Prima Sterling Poi Lo sano E adesso 2 2 3 2 2 2 2 3 3 4 Cioè questo fa assonanza con condobbià Eh, però si chiama Bongondani Poichetto mega, vai, vai via Cosa dobbiamo fare per aspettare Semi, bleh, bleh, bleh Belgio Cici è un insulto Il Bon Chi è? Luisa Dria Guarda che si fa, guarda che si fa Il 100k Con dentro Andiamo con questo account L'account di Joshua Un ragazzo che ha fatto oro 1 Quindi a fine video Fatemi un po' un'idea Se le mie mani possono essere per voi fatate o meno Non so che ci sono i vari Masseo E quant'altro Chi più ne ha più ne metta Però io posso dirvi la mia Pacchetto da 50k Non è? No Come fan? Ok, ok Va bene È il Food Champions quello che ci importa Sto ragazzo ha fatto Oro 1 Io oro 1 non l'ho ancora mai aperto Pick di destra Hai presente cosa fai quando la maestra fa l'appello? Che fai di solito? Guarda, forse, forse Hai ruato sulle mani Sìì! Sulle mani! Dio por... guarda, lo voglio fare con te Questo secondo pic E' ABRAHAM Ma da lavori Facchetti da 100k Signori ci volete dare un walkout Signori della EA Sports No Ma cosa vuol dire Ultimo pacchetto Il video finisce qui La gente adesso si deve affidare Nelle mie mani piuttosto si affida Alla schedina dove gioca il frosinone Salvo in serie A Per esempio il ragazzo l'ha presa bene Almeno posso fare agli avversari Sulle mani questa è una rapina E mi lasciano vincere E' vero E' un motivo se sono voluto partire Con oro 1 e poi andare subito A oro 3 Perché voglio farvi vedere la differenza E questo ragazzo potrebbe dimostrarcelo Claudio che squadra c'hai? Mi ha detto che ha fatto oro 3 A questa squadra qua della Premier Onestamente parlando C'è Piero America Obama Young Io ad Antonio voglio bene Ma Antonio lo vorrei salutare Saluta Antonio Capite? Avete capito Oro 3 Due pac mega Ah uno da 50k Vabbè sti cari Il primo pick Allora Indovina chi? Questo giocatore Gioca in serie A Io lo so E' il Juventino E' il Juventino Come mi starà sudando Cellini? E' il Juventino Io sto Ramirez Adesso vogliamo la doppietta della serie A No? Vabbè dai sti cari Secondo Secondo Vi rendete conto che ci ha dato un 82 Un 85 All'altra povera bestia Un 84 Un 80 Ci darà un walk out Credo da qui a fine video Una bandiera Un if Un if Un if Ma questo è Marez Signori miei Questo è Marez E' scambiabile E' scambiabile E dai Quanto è bello Ti mando anche la foto se vuoi Ancora Diego Costa Morata Eh Sebastia Giovinco Giovinco Morata Il prossimo cos'è? Fagliarella? Rian Marez Ti giuro Ancora walk out Algeria Brain Sì Bandiere Germani Yes Royce Marco Royce Mi tocca esultare con Marco Royce Ma effettivamente Questo ragazzo Ha trovato di più dell'altro Il ragazzo ci delizia con un Va bene che a pranzo Ho mangiato il kebab Ma così è esagerato Ragazzi Questo ragazzo Era quello di settimana scorsa Quello che ha trovato Bongondà Vado col primo player pick E vi dico che è uscito Appurre Cioè di farm Questo ragazzo di farm C'ha la versione UCL live Non scambiabile E abbiamo Trovato farm Io credo Che se esco in questo momento Di casa Un piccione Senza alberi Mi caca in testa Che c'ha del bonus Sta carta Niente Uno Due Tre Uno Due Tre Walkout Walkout È un if È un if Germania È di Gnabri Walkout Germania Serge Gnabri Perché Timo Werner Faceva schifo Serge Gnabri Serge Gnabri È pure Müller Ed è pure scambiabile Serge Gnabri Tu sei la mia ultima speranza So che sei interista Questo ragazzo Ha fatto Oro 1 Con questa squadra Gli interisti Possono essere La mia persone Prova di accedere questa Primo player Vita Porco Nel Zik Numero 2 Crucchi di mer Due ce ne ha dati Non dirmi che anche te hai la versione UCL Live Champions League No scabbiamole che ti prendo a calci L'unico crucco che amavo era Werner L'unico Anche Gnabri Manco loro Odiamo così tanto La Germania Ma così tanto Che loro ci ringraziano Con perotte Perotte Sai in quanti vorranno Farsi aprire i pacchetti Da me In quanti In posto Tu vuoi ancora farti aprirmi da me? Bene Ragazzi Ripetete insieme a me 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 3 Alleluia, alleluia, alleluia Many months later Alleluia, del signo, signo, brasiliano, Marcello Alleluia, alleluia, alleluia E Marcello, e Bajero, e Balotelli, e porca ma...